Ciao a tutti, questo è stato un martedì abbastanza tranquillo in quel di YouTube. Ho visto che praticamente la coppia di Milano ha pubblicato due video, praticamente uno di Davide, in cui praticamente faceva le pulizie del divano e dovevano andare in giro ad acquistare un maglione, e uno di Chiara dove ha fatto un try-on-all delle cose che ha acquistato su Shane, dei vestiti, degli abiti che ha acquistato su Shane. Non ho visto nessuno dei due perché insomma a me quello che pubblica Davide sinceramente non è che tanto mi interessa e non mi interessano neanche gli acquisti che fa Chiara, soprattutto quello degli abiti perché non ho gli stessi gusti di Chiara, trovo che ciò che acquista è sempre un po' sulle righe e siccome a me non interessa se Chiara appare o no dimagrita mentre appunto si mette questi capi, quindi anche perché a me l'ultima cosa che mi interessa di Chiara è il suo fisico, quindi non preferisco non guardarli, non mi interessano. Però oddio, volevo un attimino così per passare un pochino il tempo, sono andata un attimino sul canale di Davide, ho aperto praticamente per vedere tutti i video che lui aveva postato, anche perché volevo cercare di capire un attimino il carattere di Davide, per vedere un attimino cosa ne usciva fuori, perché ancora non sono riuscita bene a capire che tipo è Davide. E insomma comunque mi sono apparse tutte queste foto di copertina, diciamo dei video di lui, ovviamente tutte queste foto di lui, che appare una volta rasato, una volta con più capelli, una volta con sopracciglia, una volta senza sopracciglia, e vedere tutte queste immagini insieme sinceramente mi ha fatto un po' sorridere, perché devo dire che non sta bene in nessuna di queste foto, cioè proprio da una parte pochi capelli, da una parte troppi, da una parte questa cosa che si fa in testa, che non ho capito che cos'è, sembra un tupeschi affatto lì su un capo rasato, quindi però oddio se piace a lui va benissimo. In alcune foto mi sembrava Pasquale Ametrano, io non so se voi avete presente questo personaggio, che è appunto un personaggio di un film di Verdone, bianco, rosso e verdone, e praticamente questo tizio abitava in Germania, un italiano che abitava in Germania, che era tornato appunto in Italia per poter votare. Gli ne capitano di tutti i colori, poi alla fine quando arriva praticamente al seggio per votare, il presidente del seggio gli fa notare che praticamente lui è discinto, praticamente aveva la maglietta su, tirata su, sulla pancia, e gli fa segno di scenderla. Questa persona che praticamente per andare a votare aveva passato, ne aveva passate di tutti i colori, però era sempre rimasto abbastanza calmo, aveva sempre tenuto il self-control, quando questo presidente praticamente di seggio gli fa notare questa cosa, lui va a votare tranquillamente, ma quando esce sbotta praticamente. E anche questo mi ha fatto ricordare un po' Davide, perché ho pensato, ecco, da immaginare se una volta o l'altra questa persona, cioè Davide, magari, diciamo, preso troppo da una vita che è un po' troppo chiusa, diciamo, prima o poi non sbotti anche lui. Dico una vita chiusa in che senso? Una vita senza, senza amici, senza, anche senza famiglia, perché lui dice che la famiglia ce l'ha, però, insomma, si frequenta poco con i suoi. E secondo me due persone, anche se sposate, sia l'uomo che la donna, ovviamente, hanno bisogno anche di spazi propri, no? Per poter un attimino interagire con altre persone, per poter anche allontanarsi da quella che è la vita quotidiana, no? Io mi ricordo una bella poesia di Khalil Gibran sul matrimonio, praticamente, che dice in poche parole che i coniugi, gli sposi, devono essere come le corde di un liuto, che devono essere distanti, ma che quando suonano fanno una musica celestiale. Quindi gli spazi personali sono davvero importanti. Due persone che vivono perennemente insieme possono essere, possono dire di essere felici quanto volete, però queste persone, questi due, stanno dalla mattina alla sera sempre, costantemente insieme. Lavorano insieme, praticamente giocano insieme, scherzano insieme, cioè fanno tutto insieme. Ecco, è una cosa che secondo me alla lunga può portare anche a stancarsi, diciamo. Cioè, questa cosa che siamo sempre io e te, tu e io, che io non posso parlare con altri, non posso interagire con gli altri, non posso neanche lamentarmi di te con gli altri, perché, ragazzi, cioè, chi di noi non si è mai lamentato una volta del proprio compagno con un'amica o con un amico, perché magari questa compagna è troppo oppressiva, perché magari questo compagno è troppo geloso. Ma è normale, siamo nella normalità dei fatti. Ma quando due persone stanno sempre insieme, cioè, alla fine, secondo me, veramente, si arriva a stanchi, veramente, si arriva a un certo punto che, secondo me, poi può essere che sia tutto bellissimo, però, secondo me, si arriva a stanchi. E soprattutto quando si ha una moglie che è abbastanza oppressiva, nel senso, una moglie che comunque ci dice cosa fare e cosa non fare, una moglie a cui dobbiamo tener conto dei nostri comportamenti. E questo si è visto in più di una live, che il fatto che Davide comunque cerca prima di fare una cosa, insomma, cerca il sì, diciamo, dichiara. Ecco, quindi anche questo gioca, secondo me, in maniera negativa. E niente, io ho provato un attimino a capire qual è il carattere di Davide e, secondo me, tutto si, praticamente, si può riassumere in questo. Davide è un uomo semplice. Semplice nel senso un sempliciotto, ecco, un sempliciotto. Secondo me non è buono, perché molti dicono no, Davide è un buono. No, secondo me Davide non è un buono. Secondo me Davide è un semplicione. Davide adesso si è sposato e quindi sta con la moglie e quindi praticamente fa tutto ciò che fa piacere alla moglie, anche se alle volte può essere che a lui determinate cose non stanno bene, però lo fa per compiacere la moglie, anche perché tutti sappiamo praticamente che se non dovesse farlo, diciamo, non dovesse compiacere chiara, insomma, potrebbero avvenire cose spiacevoli in quel di Milano e quindi è una persona abbastanza sempliciona, è una persona che si lascia quindi trascinare, lo abbiamo visto molte volte nel live buasta di Chiara che praticamente si è scagliato completamente contro anche altre donne, mentre Chiara praticamente sputava offese, praticamente offendeva queste persone in tutti i modi lui si è aggregato e ha cominciato anche lui a offendere poi soprattutto le donne, delle donne con epiteti anche abbastanza pesanti voglio dire quindi già per questo secondo me ecco anche denominarlo semplicione secondo me già gli sto facendo un favore diciamo è anche un po' pigro una persona pigra perché insomma si vede sul fatto che anche quando va in live non si dà una pettinata non si mette un attimino io non dico in tiro ecco non è che deve fare il fighetto si deve mettere insomma chissà cosa però una pettinata una maglia un attimino più carina la barba queste cose che secondo me sono sono il minimo ecco e niente invece lui pare che le cose gli stiano bene così vabbè pazienza e dopodiché ho visto che la dama praticamente chiudiamo il discorso un attimino di Davide finché non avrò diciamo carpito altri altri lati del suo carattere per essere un attimino più precisa e ho visto che la dama praticamente la dama nera ha pubblicato su un suo canale praticamente i famosi audio della signora Luciana li ho riascoltati perché insomma ogni tanto fare un bel ripassino di ciò che è stato fa benissimo e niente cioè non lo so cioè è meglio non parlare ecco è meglio non parlare perché altrimenti fare il contrario di ciò che ha chiesto Sharon ecco Sharon ha detto di non infierire quindi io faccio un piacere a questa ragazza e non vedrò di non infierire però una cosa la voglio dire ogni tanto bisogna ricordarsi di ciò che è accaduto per capire meglio ciò che avviene e anche per capire meglio com'è una persona no perché se noi praticamente ci basiamo soltanto su quello che vediamo adesso e non vediamo e non sappiamo e non capiamo quello che è avvenuto prima non abbiamo le basi per poi farci un'opinione come posso dire più veritiera di ciò che è una persona o praticamente non dico di dove è la ragione dei fatti che accadono però insomma anche per poter calibrare meglio la nostra opinione sui fatti che accadono tutto qua niente io con questo vi saluto vi ringrazio per avermi ascoltata come sempre e se vi fa piacere lasciatemi un like e ancora se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale io vi abbraccio tutti e ci sentiamo alla prossima ciao ciao